Siamo proprio al ridosso della scadenza per presentare la domanda per l'assegno unico universale. Ricordiamo che l'assegno unico viene erogato a tutte le famiglie con figli fiscalmente a carico fino a 21 anni d'età. Perché ho detto noi, perché io ne ho ancora una, 19, 18 e 15 anni. Allora cerchiamo di capire bene tutti i passaggi, ce li facciamo spiegare da Gianluca Timpone. Buongiorno. Buongiorno. Però è detto in maniera precisa, dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno d'età è possibile beneficiare dell'assegno unico universale. Per chi ha già fatto la domanda non bisogna fare assolutamente nulla, a meno che non ci sia una delle variazioni, ossia la nascita di un altro figlio oppure è variato il proprio modello di sé. Quindi in quel caso dobbiamo integrare, dobbiamo ritornare all'interno e dobbiamo mettere un figlio in più. Esattamente, bisogna aggiungere un figlio in più. Ci fa vedere praticamente proprio. Allora, noi andiamo sul sito dell'Inps. Esatto, la cosa più importante qual è? È andare sul sito dell'Inps ed accedere alla cosiddetta area riservata utilizzando la nostra identità digitale, ossia lo speed. Una volta che noi siamo entrati all'interno del sito dell'Inps e attraverso questa schermata è abbastanza semplice, bisogna in un certo senso andare a sostegno, sussidi e indennità. Dopodiché bisogna andare nella voce per nucleo familiare e scorrere sino ad arrivare alla parte in cui si parla di assegno unico universale. Dopodiché si entra all'interno di questa area e andiamo ad inserire insomma quelle che sono le nostre informazioni. Cioè sostanzialmente a comunicare, se trattasi ad esempio della prima volta che io faccio questa domanda, io faccio praticamente nuova domanda. Quindi entro all'interno dell'area riservata, entro nella schermata che mi riguarda e vado a compilare quella che è la mia domanda. Le faccio una domanda, nel caso in cui dovessi sbagliare qualcosa ci dovesse essere un errore. Le faccio una domanda a caso, non è una domanda a caso perché a me è successo. Dobbiamo rinserire nuovamente tutto perché arriva anche un messaggio. La domanda non è andata a buon fine. Se ci sono degli errori la procedura non ti fa andare avanti. Errori che possono essere tipo o sbaglio il codice fiscale oppure inserisco un codice fiscale che è già presente all'interno della mia precedente domanda. Quindi sostanzialmente lui ci accompagna passo passo per la compilazione della domanda. Tra l'altro qui siamo nella prima parte dove c'è l'inserimento del figlio. Noi inseriamo il codice fiscale di nostro figlio. Una volta inserito il codice fiscale di nostro figlio la procedura ci consente di poter andare avanti. Cioè nel senso che bisogna in un certo senso mettere tutti i codici fiscali dei vari figli. E soprattutto man mano che andiamo avanti bisogna indicare due informazioni importanti. L'Iban dove vogliamo che venga accreditato l'assegno oppure se non abbiamo un Iban possiamo riceverlo con un assegno circolare. Però in quel caso l'importo non può superare i 1000 euro. Se non sbaglio per chi percepiva l'assegno di reddito di cittadinanza automaticamente si aveva anche l'assegno unico. Esattamente. Infatti la novità qual è? Che ora siccome il reddito di cittadinanza è stato sostituito con l'assegno di inclusione in questo caso bisogna fare la domanda. Ossia chi è percettore dell'assegno di inclusione in automatico non riceverà l'assegno unico universale ma bisognerà fare istanza a parte. Quindi collegandosi direttamente al sito dell'Inps e inoltrare quella che è la nostra domanda. È chiaro che non tutti sono come dire tecnologicamente bravi ad utilizzare lo strumento informatico. Qui in questo caso basterà rivolgersi ad un CAF che gratuitamente trasmetteranno quella che è l'istanza e in quel caso difficilmente verranno commessi degli errori. Mi sembra che sia stato tutto estremamente chiaro. Nel caso in cui ci dovesse essere problemi avete delle curiosità? Scrivete, utilizzate la nostra email e vi gireremo poi. Assolutamente. Gireremo ovviamente i messaggi al nostro Gianluca Tempone. Grazie. Assolutamente sì. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi.